Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti su World of Tanks, un gioco che ho già proposto un bel po' di mesi fa sul mio canale ed oggi andremo a fare delle nuove battaglie direttamente sul campo di battaglia. Ho a disposizione un account premium, qui ci sono un botto di tank che posso utilizzare, sono di diverso livello e oggi ci sono delle belle sorprese anche per voi. Vi ricordo infatti che il gioco è completamente free to play, quindi vuol dire che il gioco ragazzi è completamente gratis per tutti voi, potete scaricarlo dal link che vi lascio in descrizione. Si tratta del mio link referral che vi permetterà di avere un bel po' di vantaggi nel gioco a partire da ben 7 giorni di premium. Avrete poi anche 500 di oro, un veicolo premium e una posizione nel free garage, quindi una roba in più. Per ottenere tutto ciò vi basta inserire il codice TANKTASTIC, così come lo vedete ora a schermo oppure vabbè ve lo lascio chiaramente in descrizione e potrete ottenere questi bei bonus. Ma abbiamo fatto troppe chiacchiere, buttiamoci subito in battaglia e porterò con me questo tank, con la speranza che mi aiuterà. Direi che la battaglia sta quasi per iniziare, nel corso di questo video andremo ad utilizzare anche diversi tipi di tank di diverso livello per comprendere se mi trovo meglio con quelli un bel po' più veloci, come ad esempio questo qui, che non dovrebbe essere di tier troppo elevato, ovvero il livello. E poi vediamo un attimino come gestirci al meglio. Io non ci gioco da davvero tantissimo tempo, non ero esperto allora e di sicuro non lo sono adesso. Però ragazzi vediamo se riusciamo a buttarne giù almeno due. Mettiamoci una sfida di base. Tra l'altro fatemi sapere se voi ci giocate a World of Tanks, se siete esperti, e se lo siete datemi qualche consiglio perché inevitabilmente regà ne ho bisogno. Ne ho bisogno e come? Io non vedo nessuno. Magari andiamo a seguire Competus, colui che compete probabilmente. E bisogna stare un attimino attenti. Mi sembra di aver visto, sì, qualcuno in lontananza, si tratta di Lineri, e qualcuno mi ha avvistato. Brutta situazione. Solitamente, avendo fatto già qualche partita, mi succede questa cosa molto particolare. Io mi ritrovo lì. Guardate quanti ce ne stanno! Oh cavolo, bruttissima storia! Mi hanno già colpito! Sì, e non solo una volta. Sono in posizioni davvero avvantaggiate, eh ragazzi, sono lassù. Io a questo punto devo stare molto attento, altrimenti mi distruggono subito. C'è qualcuno lì che potrei colpire? Non credo, ragazzi. Loro, essendo lassù, hanno chiaramente una posizione di vantaggio. Non sono riuscito a beccarlo. O forse qualche danno sono riuscito a farlo, non lo so. Cerchiamo sempre di avere una copertura, perché tendenzialmente questi tank sono in difficoltà soprattutto dagli attacchi sui lati. Sul davanti dovrebbero essere più o meno messi benino. Sto pian piano risalendo la zona, eh? Solo che ho paura di ritrovarmi di fronte subito qualcuno di tosto. Eccolo là, ragazzi. Attenzione, lo vedo. Mio! No! Non l'ho colpito! Non ci credo, ragazzi! Allora, eccolo che arriva. Sono in ricarica, non ci posso credere! Ragazzi, non ci posso credere. A questo punto provo a curarmi. Forse ci sono riuscito. E direi di provare a colpirlo e l'ho distrutto. Ragazzi, abbiamo eliminato il nostro primo tank di oggi. Non posso crederci. Ero quasi sicuro di fare una bruttissima fine. E sì, sono riuscito anche a curarmi al momento giusto. Vediamo un po'. Qui c'è il muro. Non appena mi sposto dovrebbe comparire qualcuno lì. Esponiti. Esponiti. È mio! L'ho colpito! Ottimo, ragazzi! Noi purtroppo abbiamo già subito un po' di danni, quindi non possiamo esporci più di tanto. Bisogna stare molto attenti qui, eh? Lui mi sa che si sta esponendo, ma secondo me fa una grandissima cavolata. Prova a colpirlo, bro! L'hai colpito! Oh, ma sei fortissimo! Bravo! Allora facciamo così, ragazzi. Noi curiamoci ed ecco che sta arrivando. L'ha distrutto! Devo dire la verità, ragazzi, è stato proprio bravo perché non mi sarei mai aspettato di vedere il nemico abbattuto da uno che aveva otto di vita. Almeno sembra ne abbia otto. E a questo punto buttiamoci direttamente sull'altro nemico. Vai! Vado così di cattiveria. Benissimo! E ragazzi, insieme li abbiamo devastati. Stiamo a fare davvero una bella partita. Sono molto contento. E abbiamo ottenuto la vittoria. Devo essere sincero, non mi aspettavo di riuscire a vincere la prima partita del video. Solitamente cos'è che succede? Quando vai a registrare ti esce sempre la partita scarsa. E invece no. Questa volta direi che è andata bene. Abbiamo ottenuto un bel po' di ricompense. Quindi davvero non male. Adesso è arrivato il momento di utilizzare un nuovo car armato. Un nuovo tank. E sceglierò questo qui. Dovrebbe chiamarsi Panther. Quindi saremo una vera pantera in battaglia. E stiamo per iniziare. La pantera deve difendere se stessa e il proprio branco. Vediamo di lanciarci in battaglia. Allora, vedo che tutti si stanno un attimino confondendo qui. Andiamo in questa direzione. Visto che molti stanno andando di là. Cerchiamo di coprire quest'altro lato della mappa. Le mappe ragazzi sono davvero vastissime. E dobbiamo trovare un buon punto d'appoggio. Un buon punto di difesa. Questo tank è leggermente più pesante rispetto a quello che abbiamo utilizzato prima. Di conseguenza è pur un po' più lento. E forse pure di parecchio. Spero solo che i nemici non siano in quella zona laggiù. Altrimenti sono troppo esposto. Facciamo così. Noi spostiamoci. Dobbiamo farlo anche in fretta. Altrimenti ecco forse mi hanno individuato. Esatto. Via 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 via. Copriamoci qua. Dovremmo essere un attimino più coperti. Ottimo! Eccolo là. Lo vedo. No in realtà non lo vedo. Dovrei vederlo a breve. Anche lui è coperto. Oh cavolo mi ha preso. E non so come sia possibile. Allora. Vediamo un po'. Lui è al 43%. Proviamo ad eliminarlo. No ragazzi. I colpi non ho capito da che direzione mi arrivano. La corazza per fortuna è bella tosta. E sto notando che il nemico. Quello lì ecco che mi aveva avvistato. Mi ha messo poi in difficoltà. Ma siamo riusciti un attimino a cavarcela. Quindi lui è stato sconfitto. Non so se ce ne sono altri in giro. Quello che mi distruggeva era questo qua davanti a me. Dovrebbe essere là. Proviamo a colpirlo. Lui mi ha visto però. Mi ha visto. Ah via via. Ed è riuscito a colpirmi. Brutta storia. Ma chi è? Forse era là ragazzi. Sì il colpo arrivava da quella direzione. Oh cavolo. È tosta. Non riesco a muovermi. A questo punto devo assolutamente curarmi un attimino. Equipaggio stordito. Quindi mi hanno messo un attimo in difficoltà. Così dovremmo essere coperti al 100%. E lo vedo lo vedo. Eccolo lì. Colpiscilo. L'ho preso. Ragazzi non lo so. Non ne ho idea. Allora. Al momento la situazione è difficile. Sono riuscito a riprendermi per fortuna. Però qualche colpo credo di averlo dato al nemico eh. Sono riusciti a buttare giù praticamente il tank che era al 40%. Almeno credo eh. Vediamo un po'. Se io mi aggiungessi alla situazione qui. Buonasera. Forse ragazzi è di qua. È qua dietro. Vediamo quello. È il 6%. Qualcuno mi sa che mi ha individuato. Via via via. Ragazzi mi sono scansato un colpo. O meglio è stato lui che non è riuscito a colpirmi come si deve. Provo a tornare un attimino in zona. Vediamo un po' dov'è. È ancora lì. Col 6% ed è riuscito di nuovo a colpirmi. Ed inevitabilmente a distruggermi. Non ci posso credere ragazzi. Forse i colpi arrivavano da ben due direzioni. Davvero un gran peccato. Vabbè in ogni caso non è che si può sempre vincere eh. Quindi ogni tanto bisogna anche comprendere quando fermarsi. Proverei a questo punto ad utilizzare lui. Il KV-1S. Io ragazzi non conosco molto i tank. Ma ci buttiamo comunque in battaglia. Anche questa volta dovremo difendere i nostri amici. La nostra base. E distruggere i veicoli nemici. E si va. Subito. Guardate quanti siamo. Allora. Purtroppo io sono all'estremo nord qui. No aspetta non so qual è la zona. Comunque in ogni caso. Ero molto lontano dai miei amici eh. Stiamo adesso abbandonando la zona che dovremmo difendere. Tanto non credo che i nemici si avvicineranno più di tanto. E proviamo a vedere se riusciamo un attimino ad raggiungere quelle colline che vedo un po' in lontananza. Ci sono anche delle case. E dietro quelle noi ci andremo un attimino a nascondere. In modo tale da avere almeno una copertura. Benissimo. Ma chi è che spari? Ma quello? Ragazzi ma quello? Ma così? Improvvisamente mi sono ritrovato quel tizio laggiù. Non so come abbia fatto da girarci. Ma lui l'ha distrutto. Ragazzi Red Alert mi coprirà assolutamente perché è fortissimo. È riuscito a beccare quel tizio che era davvero lontano eh. Fidatevi. Allora vediamo un po' com'è la situazione qui. Ah c'è lui perciò non riuscivo a muovermi. Allora muoviamoci in questo modo ragazzi. Ci spostiamo un attimo in avanti. So che sono molto esposto. E infatti mi hanno individuato. Ma mi metto subito dietro la casa. Vai così. Mi devo coprire più o meno in questa zona. E c'è quello col 40%. Non so se è già possibile provare a colpirlo. Io proverei così. Oh cavolo. No ragazzi non va. A questo punto mi vado a curare e devo fare marcia indietro. Aiaiaiaia questi mi vedono. Mi stanno vedendo tutti. Via 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 via. No ragazzi devo coprirmi. Devo assolutamente allontanarmi da questa zona. Perché ho fatto una grande cavolata. Meno male che mi ha mancato. Scendi scendi scendi. Proverai ad andare in quella zona. Non credo riusciranno a colpirmi quelli lì dietro di me. Perché ormai credo di essere troppo lontano. Però vediamo un attimo se riesco a colpire questi tizi qui. Forza forza forza. Dovrebbe essere un bel po' esposto. È il nemico. Vediamo. Qualcuno l'ha colpito. Vediamo se riesco a colpirlo anch'io. Gli ho fatto qualche danno. Ragazzi non ne ho idea. Non ne ho la minima idea. Vediamo un po'. Dovrebbe essere lì colpibile. Mettiamola così. Vediamo. 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 Ha ricaricato. Ragazzi ma non lo becca. Perché non lo colpisce. Dai 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 che proviamo a distruggerlo. Nulla. Per ora non credo di potermi curare ulteriormente. Non posso fare nulla eh ragazzi. Allora. Il tizio che era qui davanti è stato distrutto. Dovrei avere qualcuno alle spalle. Che sta provando a colpirmi ma non capisco da dove proviene. L'equipaggio qui a me è praticamente stordito. E mi hanno distrutto. No ragazzi. È stata davvero tosta questa eh. Perché eravamo lì uno davanti all'altro. E mi sono preso davvero tante tante botte. Peccato. Abbiamo subito una bella sconfitta. Devo ammetterlo. Ma poco importa. Ci siamo divertiti. Questo è quello che conta. E almeno la prima vittoria l'abbiamo fatta. Dai. Quindi posso rincuorarmi in quel pensiero. Vi ricordo che se volete giocarci anche voi. Il gioco è gratuito. Link in descrizione. Vi consiglio di provarlo. Proprio perché essendo gratuito. È un peccato non dargli una possibilità. Se non l'avete ancora fatto. Iscrivetevi ora al mio canale YouTube. Cliccando qui al centro. Guardate altri video del mio canale. Cliccando a destra e sinistra sulle due miniature. Quindi alla prossima. Ciao.